Nuova rivoluzione del traffico a Palermo, stavolta intorno all'area di piazza Castelnuovo per i lavori di realizzazione dell'anello ferroviario. In particolare, da stamattina è scattato il doppio senso di circolazione in via Dante, in vista della completa chiusura della piazza sulla quale si affaccia il teatro Politeama. Su entrambi i lati della carreggiata di via Dante sarà vietata la sosta, così come stabilito nell'ordinanza dell'ufficio traffico emanata dal comune di Palermo nello scorso mese di gennaio, Gli automobilisti che procedono da via Paolo Paternostro, in direzione Mare, dovranno percorrere via Garzilli e un tratto di via Dante per raggiungere via Ruggero VII o via Merico Amari. Il comune assicura che al momento non c'è il rischio che salti la pista ciclabile di via Dante. Al momento non è previsto, dice l'assessore alla mobilità Yolanda Riolo, ma vedremo cosa accadrà con l'avanzare dei lavori. Già affissi comunque i cartelli di divieto anche nel lato destro della strada in direzione Monte. Anche se, secondo alcuni residenti e lavoratori, sono poco visibili e potrebbero trarre in inganno gli automobilisti. La rivoluzione del traffico nella zona è frutto di un'ordinanza, come dicevamo, del 30 gennaio. Intanto però l'Associazione Amari Cantieri e Conf Sicilia comunicano che sono state avviate, con l'adesione dei primi 22 ricorrenti, le procedure per il risarcimento dei danni causato dai lavori per la chiusura dell'anello ferroviario. L'assistenza legale è prestata dagli avvocati Nadia Spallitta e Fabrizio Macchiarella.